Salve, adesso vi insegnerò come si fa a dare una mano di gomma lacca sulla cornice e questa gomma lacca serve per rendere la superficie dell'oro scura. La gomma lacca è un liquido che si usa in campo del restauro ed è a base di alcol, alcol 99.9 gradi. Qui lo vedete, è già scura perché lei in natura è piuttosto rossiccia ma qui la vedete già scura perché io gli ho messo, oltre a un po' d'alcol, anche un po' di terra di Roma che è un classico nero, diciamo così. Questo colore qua sarà quello che farà diventare la cornice scura. Grazie.